eccomi di nuovo amiche io qui ora sto facendo un succhettino per il mio compagno ho messo a sfriggere un caccio di cipolla una salsiccia eccola qua ho già sfumato con un bel vino bianco ora vado a mettere giù il pomodoro pelato io faccio il tipo con i pelati mi piace di più ecco qua è tutto schiacciato metto qua ora aggiungo un po di sale e un po di peperoncino e voilà prendo il peperoncino facendo tutto con una mano non ho il piedistallo qua e ora metto un po di peperoncino cade non cade bene ecco qua ora si al mio compagno piace piccante io non lo scopo invece è troppo piccante e voilà e ora lascio cuocere questo succhetto ok amiche io volevo far vedere anche questo non vi faccio vedere il finale perché tanto lo sapete quando il succo si ritira come viene bene per oggi è veramente tutto ciao un abbraccio a tutti e a tutte ciao